Buongiorno ancora da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro Te Giornale. In programma questa mattina, la riunione della Giunta regionale, si parla in particolare di Friulano, carburanti ed elezioni. Sentiamo indietro Pierini. Il piano generale per la lingua friulana 2021-2025 proposto da Arlef e poi la conferma fino al 31 agosto degli sconti carburante. Sono questi i punti salienti della riunione della Giunta regionale guidata da Massimiliano Federiga in programma questa mattina tra Trieste e la modalità telematica. Nel corso della riunione dovrebbe anche essere recepita una generalità che indica il periodo dal 15 settembre al 15 ottobre come possibile data per le elezioni amministrative con il rinnovo dei sindaci di Pordenone Trieste a cui si aggiungono altri 36 municipi. Andando con ordine il piano generale per il Friulano è l'atto che contiene tutti gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel quadriennio partendo dall'insegnamento nelle scuole all'utilizzo negli uffici pubblici della lingua. Per quanto concerne la benzina agevolata invece si tratta del rinnovo degli sconti previsti per cercare di ridurre la fuga del pieno in Slovenia dove da ieri però è richiesto comunque il green pass o il tampone per poter entrare. Sul fronte delle elezioni la generalità non è ovviamente una decisione definitiva in quanto la volontà della Giunta è di attendere le indicazioni nazionali. Le date più probabili in ogni caso sono quelle del 10 e 11 ottobre visto il periodo di pandemia. Si torna a votare su due giornate con i possibili ballottaggi due settimane dopo. Ancora nessun controllo ai confini tra Italia e Slovenia ma la pandemia continua a crescere e la Croazia potrebbe diventare zona rossa già dalla prossima settimana. L'appello del ministro degli Esiri è quello di pianificare con molta attenzione i viaggi all'estero perché potrebbero esserci poi difficoltà per il rientro. L'annunciata stretta sui controlli ai confini tra Italia e Slovenia dal governo di Ljubljana ancora non si è concretizzata. Nessuna gente ha i valichi nel secondo giorno nel corso del quale ci sarebbero dovute essere delle verifiche sul green pass o sul tampone molecolare eseguito al massimo 72 ore prima o al rapido non più vecchio di 48 ore. Dal governo fanno comunque sapere che la mancanza di controlli non significa che si possa entrare nel paese anche in transito per questioni professionali senza la dovuta certificazione. Il vero banco di prova sarà comunque il weekend quando, per tradizione, si spostano verso le coste croate molte persone. Non è ancora alta stagione, quella scatta con agosto ma tra vacanzieri tedeschi e pendolari del Friuli Venezia Giulia i disagi ai confini potrebbero sensibilmente aumentare. Attenzione anche alla colorazione dei paesi sulla base dei criteri dell'Unione Europea con la Croazia ora in giallo e molto probabilmente destinata a passare il rosso già dalla prossima settimana. Dal Ministero degli Esteri invitano inoltre la prudenza per gli spostamenti fuori dal paese in quanto non si possono escludere future ulteriori restrizioni ai movimenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Una coppia di cittadini rom residente a Udine è stata denunciata dai carabinieri per la spendita di banconote false. Avevano raggirato titolari di bar, edicole, tabacchini e cartolerie e sono stati incastrati dalle telecamere di sorveglianza. Nascondendo in parte il volto con una mascherina chirurgica e con l'aiuto di un complice è riuscita a spendere denaro falso in cinque esercizi pubblici attivi sul territorio della ex provincia di Udine. Un bar, edicole, tabaccherie e cartolerie lo scorso mese di gennaio. Le indagini curati dalla sezione operativa dei carabinieri della Compagnia di Udine coordinate dalla procura del capoluogo friulano hanno portato a identificare entrambi. Si tratta di una coppia di cittadini di origini romo, una 33enne e un 38enne, entrambi residenti a Udine, entrambi gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, denunciati in stato di libertà per spendita di banconote false. Il denaro fasullo, con tagli da 50 a 100 euro, veniva speso per fare acquisti di scarso valore e ottenere quindi un resto in denaro autentico. Subito dopo l'acquisto i due si allontanavano frettolosamente e fuggivano con una vettura di grossa cilindrata. I militari dell'arma hanno acquisito numerosi fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e sono riusciti a identificarli anche con la collaborazione delle vittime e dei testimoni presenti nel momento della spendita delle banconote false. In un solo pomeriggio la coppia era riuscita a colpire negozi e pubblici esercizi in cinque comuni dell'Inter lantudinese, della Bassa Friulana e del Medio Friuli. Le banconote sono state successivamente sequestrate e presentate alla filiale della Banca d'Italia di Trieste e sono state dichiarate false. Inserita nel sito di interesse comunitario Natura 2000, l'oasi dei Quadris di Fagagna diventerà giardino zoologico ma senza animali feroci. Fino a quando l'iter normativo in capo al comune non sarà perfezionato, l'oasi potrà rimanere aperta al pubblico per soli sei giorni l'anno. Resterà aperta per due fine settimana lunghi, per un totale di sei giorni, quest'estate, tra luglio e agosto, l'oasi dei Quadris di Fagagna, lo spazio verde chiuso al pubblico ormai da diversi mesi. Il problema, spiega il vice sindaco Sandro Bello, è legato all'inquadramento normativo della zona. Nata come una piccola realtà, l'oasi negli anni è mano a mano cresciuta, articolandosi e accogliendo sempre un maggiore numero di animali. È necessario adesso, in base a stringenti normative europee e dettate dal Ministero dell'Ambiente, individuarla come giardino zoologico oppure come ricovero di animali da curare. L'opzione ricade naturalmente sulla prima ipotesi, sebbene non saranno contemplati al suo interno animali esotici, come la tigre o la giraffa, per fare un esempio. L'iter, spiega Bello, deve passare necessariamente attraverso una serie di delibere che saranno discusse e approvate in Consiglio Comunale, quanto prima. Nel frattempo, la norma permette l'apertura di soli sei giorni all'anno dell'area che ricade nel sito di interesse comunitario Natura 2000. Strada regionale in sicurezza Santo Stefano di Santa Maria la Longa, dove è stato eliminato il semaforo e modificata la viabilità in particolare per chi arriva da Tissano. Sentiamo il sindaco. Una importante modifica della viabilità riguardata la frazione in particolare di Santo Stefano in questi giorni è stato eliminato il semaforo e quindi la lanterna semaforica che impedirà l'uscita sulla strada regionale 352 per coloro che arrivano dalla frazione di Tissano e che devono immettersi appunto sulla strada regionale. Chiaramente l'emissione della strada regionale avrà solo tramite la nuova viabilità quindi che è stata inaugurata e che ora è aperta e percorribile. È un'importante novità perché farà sì che se dalla strada regionale sarà ancora possibile immettersi su via della stazione, per coloro invece che la transitano nella parte inversa e quindi arrivano, ripeto, alla frazione di Tissano, dovranno invece per forza di cosa utilizzare la nuova viabilità. Una messa in sicurezza di quell'incrocio che chiaramente era sicuramente, diciamo così, un po' stretto e rischioso per coloro che transitavano nel doppio senso, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro che potesse mettere in sicurezza anche coloro che transitano l'incrocio semaforico. Arte, natura e storia. Dopo anni difficili segnati da commissariamenti, covid e danni causati da Baio, vado di parte con una serie di proposte per l'estate, quasi tutte all'aria aperta, ma non mancano musei e le visite alle chiesette alla miniera di Cludinico. Abbiamo fatto un programma intenso, tutti i fini di settimana, fino a settembre, poi qualcosa anche in autunno, perché ritenevamo che Ovaro doveva riprendersi un po' l'attività, il ruolo che ha sempre avuto dopo un periodo di difficoltà, sia dovuto a gestioni amministrative, che purtroppo ha finito con il commissariamento, sia il discorso del covid e quindi anche il tessuto sociale era completamente da ricostruire. Abbiamo fatto un lavoro impegnativo con tutti quanti e siamo riusciti a mettere vicino un programma che interessa tutta l'estate e anche da parte dell'autunno per cercare di dare un nuovo slancio al Paese, all'attività e devo dire che ho trovato disponibilità da tutti a cercare di operare, di collaborare assieme. Abbiamo fatto diverse iniziative quasi tutte all'aria aperta per evitare anche problemi con il covid, iniziative che interessano il capoluogo, interessano la zona di Aplis, ma interessano anche alcune frazioni legate alla cultura, legate ai costi dei musei, alla miniera di Clodinico, al museo della Pieve, al museo di Aplis. Pensiamo per fine estate di recuperare e rendere visitabile anche il sito archeologico di San Martino che era stato con vaia danneggiato. Quindi sono tante cose che secondo noi possono dare un segnale importante al nostro comune. Completamente ristrutto in alta a Valtorre il rifugio ai ciclamini di Tanamea grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro. Ora manca il gestore e sarà presto pubblicato un bando. Sono da poco terminati i lavori di ristrutturazione del vecchio rifugio ai ciclamini di Tanamea in alta a Valtorre nel comune di Lusevera. Grazie a due finanziamenti per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro, l'ente parco naturale regionale Prealpi Giulie con la collaborazione del comune di Lusevera, proprietario dell'immobile, ha ristrutturato infatti completamente l'edificio che presentava problematiche importanti soprattutto di infiltrazione e di riorganizzazione degli spazi. Tra poche settimane sarà pubblicato il bando per il suo affidamento in gestione. Il rifugio si compone di un'area per notamento con 34 posti che potranno raggiungere i 50 posti una volta terminato il terzo livello, di una zona ristorazione e di un centro visite che metterà a disposizione tutto il materiale informativo e le guide per l'accesso all'area protetta. Abbiamo appena ottenuto un altro finanziamento ulteriore, spiega il direttore del parco Antonio Andric, di 80 mila euro da parte di Natisone Gall che impiegheremo per realizzare un sentiero tematico ispirato all'area di confine e alle bellezze naturali della zona, andando quindi a recuperare 7-8 chilometri del vecchio anello utilizzato un tempo come pista di sci da fondo nelle immediate adiacenze del nuovo rifugio. È stato migliorato anche il sentiero per i povedenti, uno dei pochi in regione che permette il contatto diretto con l'ambiente naturale, in piena sicurezza anche per chi ha questo problema. È una Alessia Troste nuova e ritrovata quella che guarda le Olimpiadi di Tokyo, l'abbiamo sentita dal Raduno che la vede impegnata in questi giorni prima della partenza, ci ha parlato del lavoro fatto e della sua voglia di cominciare una seconda parte di carriera con più soddisfazioni. Sto bene, sto bene e bisogna far quadrare le cose. Spero possa essere un punto di arrivo pensando a questa stagione e un punto di partenza pensando alla mia seconda parte di carriera. Ho 28 anni, non sono più una ragazzina dal punto di vista sportivo, spero insomma che da qui in avanti le cose possano essere più semplici, più organizzate e che insomma la mia vita sportiva possa darmi delle soddisfazioni. Se penso a questa stagione la qualificazione è stata una soddisfazione, sarà bello, bello, bello gareggiare le Olimpiadi. Gioia. Adesso mi sento rientrata nelle mie scarpe, ecco, forse questa è la sensazione, è la parola giusta per descrivere la sensazione. Vado in pedana e sento che è roba mia e lo faccio a modo mio e spero sia la chiave per portare a casa anche dei risultati. Se un anno fa appunto mi avessero detto che ero qualificata per le Olimpiadi, a questo punto avrei messo firma su carta bianca. Per me è stato decisamente un anno in più, un'opportunità in più, un anno utile. Per come stavano le cose, per come era organizzata dal punto di vista professionale, sarebbe stato difficile qualificarsi per un'Olimpiade se ci fosse stata. E' stata un'opportunità, un anno in cui ho imparato tantissimo, nonostante appunto abbia dieci anni di esperienza sportiva alle spalle. Tra poco c'è a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.